Allora amici ho fatto il video, l'altro, adesso mi sto annoiando E qui ti faccio l'acqua, l'acqua ti devo mettere? Sì papà prendimi l'acqua, faccio il video con la pasta Papà mi è andato a prendere un po' dell'acqua Adesso dico questo, guardate Gli ingredienti sono pronti Sì grazie Allora Allora Se non avete visto il video che facevo per i dog Vedetelo Allora Allora Una ciotolina Senza questa Questa Poi ho usato due mescolini Che mi annoio Che se faccio, fate questo Poi Poi Perché ho fatto il video L'acqua Ho fatto il video Che è durato solo qualche minuto Poco Mamma Mi ha ripreso un pochino Per la pasta Mi ha ripreso un pochino Ho detto anche che sono le quattro Già Ancora Che sono le quattro E allora Faccio la pasta Adesso Prima di tutto Andiamo a gustare della pasta Questa Piccola 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 Ed adesso questa Così è buono Ora Prendo acqua E metto un po' Stato Stato